Ciao, io sono Giorgia e loro sono le mie compagnie. Insieme faremo un pezzo di Meianz. Brava, brava Giorgia. Bellissimi, siete bellissimi, carini. Come mai avete scelto questa disciplina di danza? Noi abbiamo scelto questa disciplina perché da piccole, vedendo la nostra maestra ballare un'esibizione, ci siamo innamorati di questa danza, anche della maestra, però della danza e ci è sempre piaciuta. Adesso man mano che cresciamo è sempre più bello e sono sempre esperienze nuove. Da me e tutta la giuria è un grande in bocca al lupo. Da me e tutta la giuria. 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 Da me e tutta la giuria.